Prendi Ancelotti. No, l'ho già fatto, dai. Ma vuoi cambiare? No, dai. Il calcio di oggi che è super atletico, un Milan vostro reggerebbe il confronto di un Manchester City di oggi. Ustia. Ho detto bene, il calcio è cambiato. Attenzione perché diciamo la richiesta adesso è differente, ma non è che i giocatori di 15 anni fa non sarebbero stati in grado magari di recepire alcuni concetti che adesso vengono passati. Quindi sarebbe bello provare. Che allenatore sceglieresti per questo dream team? Forse allenare da Guardiola penso che se devo sceglierne uno. No, Guardiola è già col City che state sfidando, quindi devi prendere un altro. Prendi Ancelotti. No, l'ho già fatto, dai. Ma vuoi cambiare? Roby De Zervi è un ragazzo che conosco, che era uno di quelli che frequentavano con me Milanello il primo anno. Roberto era in primavera e io ero a Milanello, quindi ci siamo frequentati nei biliardi di Milanello. Un ragazzo che ha avuto talmente una crescita ed è forse uno degli esponenti maggiori di questo cambiamento del calcio, che mi piacerebbe farmi allenare da lui e farmi insegnare qualcosa.